Lo spaccio di droga è sempre più attività di sussistenza per chi come emigranti arriva in Italia in cerca di una vita migliore ma si scontra con la dura realtà fatta di burocrazia, lunghe attese e inoperosità prolungata. Lo dimostrano anche i dati degli ultimi arresti effettuati dai carabinieri di Cremona. 11 gli stranieri che figurano come richiedenti asilo finiti in manette dall'inizio dell'anno per lo smercio di sostanze stupefacenti, spesso cedute a minorenni. Individui che sono stati coinvolti nel giro della droga, piccoli pusher sostituiti con rapidità ad ogni retata come i pezzi di ricambio di un ingranaggio molto complesso. Nelle ultime 24 ore sono stati arrestati in flagranza due giovani africani entrambi del Gambia, uno recidivo e già fermato nei mesi scorsi, l'altro sorpreso a spacciare sempre nella zona attorno alle medie campi e alla casa dell'accoglienza. Quest'ultimo è stato bloccato da due militari che hanno effettuato una perquisizione anche nella camera occupata dal giovane nel centro di accoglienza di Viale Trento Trieste, prima di essere trasferito in carcere. Per lui, come per gli altri, l'avvio della procedura di espulsione e l'interruzione del litera di richiesta di copertura internazionale.